Maria De Filippi, i retroscena sui ragazzi di Amici e il mondo del web Alcuni allievi a rischio ritiro per problemi con i social, condizionati in un modo imbarazzante Maria De Filippi a ruota libera. La regina di Mediaset si è raccontata in una lunga intervista concessa a Fanpage It. Focus sui, suoi, ragazzi e sui social. Come è noto la conduttrice non è attiva sulle piattaforme web in prima persona con profili personali, eppure è un'attenta studiosa del mondo digitale Soprattutto delle conseguenze che i social provocano agli allievi, che passano sotto la sua ala protettrice Durante la chiacchierata con la testata online ha narrato di risvolti piuttosto pericolosi relativi al rapporto che hanno i giovani di Amici che lei segue con l'universo della rete Maria De Filippi e lo studio dei social, i social li guardo e li leggo, ormai da tempo All'inizio ero un po' colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli, spiega Maria che passa poi a parlare dei giovani con cui è a contatto nei suoi show Quello che mi dispiace è parlo, ad esempio, dei ragazzi di Amici, che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante Secondo la moglie di Costanzo i ragazzi di oggi non possono contare su alcun maestro che gli insegni come interpretare certe situazioni, come facevano una volta i genitori con i figli davanti alla tv A questo punto racconta alcuni aneddoti emblematici, io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati Non guardano mai i complimenti, quelli è come se li accantonassero, il complimento non gli dà fiducia, non li rassicura Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì La cattiveria, che sui social è proprio spregiudicata, ti va nel profondo perché ti tocca i tuoi lati deboli, prosegue la De Filippi, e se dici a una ragazza di 20 anni che è un cesso, quell'insicurezza che a 20 anni hai, e che hanno tutti, ti sovrasta E piangono e cambiano completamente, c'è gente che pensa addirittura di ritirarsi La conduttrice passa poi a esprimere il suo concetto di talento, ci nasci, nella sostanza, poi la capacità di renderlo unico dipende da te, perché è molto facile arrivare a un successo ed è molto difficile mantenerlo Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì insomma Cambia la moda cambi tu 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 Grazie per la visione!